Ciao a tutti! Oggi prepareremo le trecine di sfoglia con ricotta e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono ricotta, zucchero, estratto di vaniglia, gocce di cioccolato, pasta sfoglia, tuorle e latte per spennellare. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta, l'estratto di vaniglia ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 3. aggiungere le gocce di cioccolato ed azionare il bimbi per 30 secondi anti-orario velocità 2. versare la crema di ricotta sulla superficie della pasta sfoglia e livellare bene. coprire con un altro foglio di pasta sfoglia tagliate delle strisce larghe 2 cm prendere una striscia piegarle in due e intrecciarla e posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno spennellare la superficie con il tuorlo d'uovo e il latte cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa le treccine sono cotte lasciare raffreddare spolverizzare con zucchero a velo e servire treccine di sfoglia con ricotta e gocce di cioccolato grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti